L'evoluzione industriale fu un processo storico, economico e sociale che cambiò il modo di vivere e lavorare in Europa e nel mondo. La rivoluzione industriale presa via nel XVI secolo, le attività di commercio era piena di mercanti. I pirati inglesi ricolsero ingenti quantità di ricchezza, oro, argento e denari che costituirono l'inizio dell'accumulazione del capitale. Le vecchie cinque capitale accumulazioni, credo e credo. Dagli inizi del XVIII secolo queste ricchezze furono utilizzate per acquistare a basso prezzo le terre di proprietà comuni dei villaggi inglesi e trasformarle da campi aperti a proprietà privata difesa da recensioni. I prodotti agricoli prima destinati all'autoconsumo furono invece messi sui mercati per ottenerne profitto. Allo sviluppo del mercato corrispose lo spopolamento delle campagne e le espansioni delle città. chiamato al chiuso allo của 大 ding us entro cuori chiuso bomber Ы corris dead auto G market come private property, developing market from village to town. L'energia muscolare di uomini e animali venne sostituita l'energia delle macchine a vapore. James Watt ideò la prima macchina a vapore che venne utilizzata per pompare acqua dai pozzi, la sua diffusione fu rapidissima. Grazie ad una semplice applicazione meccanica capace di trasformare il moto rotatorio in moto lineare, l'energia del vapore fu applicata ad altre macchine per la tessitura e carrelli per il trasporto. Questi ultimi costituirono il prototipo della locomotiva.